Lo scontro in Abruzzo è fra il presidente attuale di centrodestra Marco Marsilio e il candidato del centrosinistra unito, l'ex rettore universitario Luciano D'Amico, ma che vinca o che perda il personaggio chiave è Marsilio, intanto perché governa l'Abruzzo pur essendo nato e vivendo a Roma, laureato in filosofia alla sapienza, fa politica fin da giovanissimo nelle organizzazioni di estrema destra, fare fronte, gabbiani, fronte della gioventù, azione giovani, MSIAN, PDL, Fratelli d'Italia. I camerati in erba della sezione Missina di Colleoppio, che è la più antica d'Italia, lo chiamavano il lungo perché è molto lungo e allora nel 1992 conosce la quindicenne Giorgia Meloni che entra per la prima volta nella sezione del movimento sociale del quartiere Garbatella e lui che è il leader di Fare Futuro, anzi scusate di fare fronte, la accoglie. Lì lui fa attivismo soprattutto contro gli americani e gli israeliani che erano le bestie nere della destra di allora, l'opposto di adesso. Il 90 è stato addirittura arrestato per radunata sediziosa a blocco stradale in osservanza all'ordine di sciogliersi e lesione a pubblico ufficiale perché manifestava contro il Memorial Day americano a Nettuno. Oggi con l'aria che tira si manganellerebbe da solo praticamente. Con Giorgia Marsilio è talmente in confidenza che lei, quando la madre di lui si ammala, va a lavorare a casa sua come badante della signora. Nel 1993 prima carica pubblica, consigliere di circoscrizione a Roma Centro, poi consigliere comunale sempre a Roma. Nel 2006 scrive un libro, Razzismo, un'origine illuminista, cioè il colpa del razzismo è Voltaire praticamente e Diderot. Nel 2008 viene eletto deputato sempre a Roma. Nel 2013 viene ricandidato alla Camera ma viene trombato. Lo risarciscono con la rielezione al Senato nel 2018 ma resta lì un anno e poi se ne va perché viene eletto Presidente della Regione, non del Lazio, dell'Abruzzo naturalmente. Viene paracadutato e meno male che Giorgia Meloni ce l'ha con l'amichettismo, l'avete sentita. Marsilio comunque continua a vivere a Roma, fa su e giù per l'Aquila e Pescara in macchina, Autoblu naturalmente, per le riunioni di giunta almeno è presente. In cinque anni si è fatto 186 mila chilometri, 100 al giorno con l'Autoblu. Un presidente pendolare, assenteista, in vacanza, diciamo in smart working. Infatti la sua è l'unica giunta che può riunirsi da remoto con gli assessori in babbucce oppure sotto l'ombrellone e non solo. Gli assessori in Abruzzo possono prendere l'indennità anche se si fanno sostituire nei voti in consiglio dai primi dei non eletti. Ma lui comunque si difende, dice chi mi attacca è un razzistello la mia famiglia abruzzese dal 1700 e poi ho comprato casa a Chieti, anche se poi quando si deve fermare in Abruzzo passa la notte in albergo. In effetti non si può dire che anda, rianda, anda, rianda, gli sia servito per studiare qualcosa sull'Abruzzo. Guardate qua. L'Abruzzo è l'unica regione che si affaccia sui due mari, anzi anche sui tre mari compreso l'Ionio, quindi tra l'Adriatico, il Tirreno e l'Ionio è l'unica regione che non ha un'autorità di sistema portuale. Quindi l'Abruzzo è un'isola praticamente, ha addirittura tre mari. Questa lezione di geografia lui l'ha tenuta al Consiglio regionale naturalmente nel 2021, roba che nemmeno cetola qualunque. Purtroppo al momento, salvo ulteriori derive dei continenti, l'Abruzzo ha un solo mare, l'Adriatico. Il Tirreno e l'Ionio ancora gli mancano, a meno che Marsilio non sia così affezionato a Roma da voler annettere l'Abruzzo al Lazio. Allora guadagnerebbe anche il Tirreno, ma l'Ionio ancora no. Oppure che Salvini gli abbia promesso di fare un ponte dello stretto che arriva fino a Pescara? È possibile tutto. Invece di comprarsi una cartina e di chiedere scusa, il Lungo incolpa le opposizioni. Dice che è colpa del PD perché il PD cerca di spostare l'attenzione su una frase del presidente Marsilio, che sarebbe lui, è lui che parla di sé in terza persona. E se a qualche consigliere del PD piace buttare il discorso serio in burletta, allora possiamo accontentarlo, aggiungendo che l'Abruzzo, oltre ad affacciarsi sui tre mari, ha anche le Alpi e il Lago di Garda. Basta così poco a farli contenti. Che zuzzurellone, no? Che simpatico si prende in giro dal sol. Grazie.